Si è conclusa con quattro arresti. L'inchiesta avviata il 16 giugno del 2009 è relativa all'omicidio del pregiudicato mesagnese Giancarlo Salati. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Recce, ha permesso di svelare mandanti, esecutori materiali dell'omicidio e soprattutto il movente. L'operazione è stata chiamata Revenge, vendetta. Aspettiamo tutti a braccia aperte. Ovviamente si riferisce agli altri partners della maggioranza che ancora non hanno aderito al progetto Consales. Il candidato sindaco del Partito Democratico, Mimmo Consales, ai nostri microfoni spiega le motivazioni della sua candidatura. Celebrate quest'oggi la giornata della memoria, non solo cerimonie ma anche momenti per riflessione su quanto accadde. L'assessore regionale Minervini contro Trenitalia, che non rispetta gli accordi e dunque la Regione minaccia lo stop di 16 milioni di finanziamento. Ben ritrovati a tutti, gentili telespettatori, benvenuti a questo appuntamento con l'informazione di TRCB. La cronaca si impone con l'importante operazione di polizia compiuta all'alba di questa mattina, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Recce. Hanno operato principalmente la squadra mobile di Brindisi, che ha collaborato comunque con il commissariato di pubblica sicurezza di Mesagne. Ed è proprio a Mesagne che avvenne un omicidio il 16 giugno del 2009. A distanza di tempo gli inquirenti hanno fatto luce sui mandanti, gli esecutori materiali e anche il movente di quel delitto. Il tutto grazie anche alle dichiarazioni fornite agli inquirenti stessi da un collaboratore di giustizia. La motivazione, il movente, la vendetta, per questo è stata denominata l'operazione odierna, operazione vendetta o meglio revenge. Vediamo. Hanno un nome gli autori dell'omicidio del 62enne mesagnese Giancarlo Salati, aggredito il 16 giugno del 2009 nella propria abitazione nel centro storico di Mesagne e deceduto 24 ore dopo nell'ospedale Perrino di Brindisi per le gravi ferite riportate. Gli agenti della squadra mobile di Brindisi e del commissariato di Mesagne hanno arrestato all'alba di oggi mesagnesi Vito Stano, Cosimo Giovanni Guarini e Francesco Gravina, detto Gabibbo. Massimo Pasimeni, conosciuto come Piccolo Dente, è stato invece raggiunto in carcere dall'ordinanza di custodia cautelare. Sarebbe stato proprio quest'ultimo il mandante dell'efferato omicidio a rivelarlo. Il collaboratore di giustizia Ercole Penna sarebbero state le sue dichiarazioni a far chiudere dunque il cerchio attorno alla morte di Salati, colpito dai tre malviventi quel pomeriggio d'estate da almeno 16 colpi di bastone di ferro. Revege, questo è il nome dell'operazione che grazie alla collaborazione tra la procura della Repubblica di Brindisi e quella distrettuale antimafia di Lecce, ha inferto un duro colpo alla Sacra Corona Unita. Il pentito Penna avrebbe raccontato agli inquirenti di vecchi rancori tra Pasimeni e la vittima. Salati avrebbe avuto in passato infatti una relazione con la moglie di Piccolo Dente, avrebbe avuto anche il ruolo di protettore quando la donna si prostituiva. Secondo le indagini l'omicidio sarebbe stato commesso anche per agevolare l'attività della frangia mesagnese poiché avrebbe acquisito con la morte di Salati prestigio essendo la vittima considerata responsabile di intrattenere relazioni con minorenni. La prima pista seguita dagli inquirenti fu infatti quella della vendetta del padre di una quindicenne di cui Salati era amante. Il 41enne di San Pietro Vernotico, Angelo Guerrieri, risultò però estraneo ai fatti. Come avete visto in conferenza stampa questa mattina c'erano tutti il procuratore capo della direzione distrettuale antimafia di Lecce, Cataldo Motta, il procuratore capo della procura della Repubblica di Brindisi, Marco di Napoli, il questore terribile, il capo della mobile Barnaba, il commissario di Mesagne, ma c'erano davvero tutti. Ascoltiamo la soddisfazione nelle loro parole per l'esito di questa operazione. Un omicidio maturato in un contesto di agevolazioni mafiose, questo il commento dei procuratori, Cataldo Motta e Marco di Napoli, presenti alla conferenza stampa che si è svolta oggi in questura a Brindisi, come se la criminalità organizzata si sostituisse allo Stato, è stato spiegato dai due procuratori. Sappiamo bene che la finalità ultima delle associazioni mafiose è proprio quella di sostituirsi allo Stato, sostituirsi a pezzi dello Stato, ad apparati dello Stato e per questo ha bisogno anche di una territorialità nell'ambito della quale lavorare. In questo caso c'è proprio una dimostrazione di come per soddisfare la spinta giustizialista della gente comune e dell'opinione pubblica si sia uccisa una persona, oltre che per motivi concorrenti e coincidenti, si sia uccisa una persona per far piacere, diciamo così, e quindi per conquistare la gente e conquistare quindi ulteriore consenso, ancora una volta, ripeto, abbassando la soglia di legalità. Un'attività che premia il lavoro incensante fatto dalla squadra mobile e dal personale del commissariato di Mesagne, quindi un bel risultato, questi criminali sono stati assicurati spero definitivamente alla giustizia ed è un altro l'ennesimo duro colpo che viene dato alla Sacra Corona Unita nel territorio brindisino. È una esecuzione realizzata con modalità particolarmente ferate. Io devo dire che in tanti anni del mio lavoro è una vista di tutti i colori, ma un'esecuzione così, fatta a colpi di bastone, da tre energumeni che hanno fatto irruzione in casa della vittima, è la prima volta che mi è capitato di vederlo. Un crimine particolarmente ferato, fra l'altro hanno agito a volto scoperto, in pieno giorno, in una zona di Mesagne in cui le case si guardano solo una vicino all'altra, quindi è possibile vedere da una casa quello che succede nell'altra casa. Evidentemente si hanno fatto questo, erano certi dell'impunità. Ed ora apriamo la pagina politica per le prossime amministrative. A Brindisi continua in questi giorni a tenere banco la situazione all'interno anche del centro-sinistra, però se vogliamo anche del centro-destra. In questi giorni abbiamo realizzato anche diversi speciali. Il nostro direttore responsabile, Tonino Saponaro, ha intervistato i protagonisti della Kermes politica di questo periodo. Se seguite la programmazione, la nostra programmazione, avrete modo di verificare come stanno le cose. Intanto oggi nel telegiornale del primo pomeriggio abbiamo ascoltato telefonicamente il collega Mimmo Consales, candidato del laboratorio, che ha detto testualmente aspettiamo a braccia aperte i partner del SEL, dell'Italia dei Valori, di sviluppo e lavoro. Insomma, coloro che al momento sembrano rappresentare l'alternativa al laboratorio all'interno del centro-sinistra, ma che il PD e l'Udc sperano di avere con loro in questa battaglia amministrativa. Ascoltiamo le parole di Consales. Questo lavoro è iniziato a settembre dello scorso anno e al tavolo siedono da settembre anche il SEL, l'Italia dei Valori, sviluppo e lavoro, la Puglia per rendere. Insomma, le forze politiche e i movimenti che in questo momento non fanno ancora parte della nostra coalizione. Il percorso è stato ben definito, anche ben orchestrato nelle sue tematiche, nella impostazione dei lavori e alla fine si è giunti a proporre una candidatura e che è la candidatura del sottopritto. Quindi obiettivamente noi ci sforziamo a dichiarire ogni volta che ce ne viene data la possibilità che la città di Brindisi ha ben tanti problemi per potersi attardare a discutere e soprattutto per perdere altro tempo prezioso intorno a questa vicenda. Certo, capiamo, comprendiamo perfettamente le difficoltà, le ansie delle forze politiche e anche i problemi che possono esserci in questo momento, qualche incomprensione, forse anche qualche errore di percorso, ma adesso la campagna elettorale è iniziata, noi aspettiamo a braccia aperte sia SEL, l'Italia dei Valori, sviluppo e lavoro e chiunque altro, oltre ovviamente a forze del centro e del centro moderato che hanno già manifestato interesse nei confronti della nostra coalizione, a chiunque altro possa essere interessato a questo grande laboratorio politico che ha una proposta politica ben determinata e su questa vuole confrontarsi con gli altri candidati sindaci presenti nella prossima consultazione amministrativa. Questa è una strada molto più complicata sulle pagine dei giornali rispetto a quanto effettivamente poi risulti nella realtà, c'è un dibattito in piedi, ci sono delle forze politiche che stanno discutendo, stanno effettuando delle scelte importanti anche per il futuro ed è evidente che questo richiede tempi maggiori rispetto a quello che noi abbiamo fatto fino ad oggi anche siglando un accordo e soprattutto mettendoci già al lavoro per l'elaborazione delle idee e quanto meno delle linee guida del programma. I tempi sono biologicamente differenti tra un soggetto e l'altro, vedremo come andrà a finire, ma ripeto, il dialogo non si è mai interrotto con nessuno. E continuiamo a parlare delle amministrative della prossima primavera, ma ci spostiamo in un'altra importante realtà del nostro territorio, del nostro bacino di utenza, andiamo in Valle di Tri a Martina Franca dove in vista delle amministrative di maggio è anche il centro-sinistra la ricerca dell'unità, dove sono ancora evidenti le divisioni tra il PD tentato dall'alleanza con l'Udc e i partner della coalizione SEL, IDV, Comunisti Italiani, La Puglia per Vendola e Amo Martina, che chiedono invece di lasciare fuori il terzo polo e premono per le primarie. Il servizio di Eugenio Caliando. Sì alle primarie, no a coalizioni allargate con il terzo polo. Pasquale Lasorsa, leader di Amo Martina, torna a farsi portavoce del centro-sinistra martinese che da alcuni mesi sta riunendo attorno allo stesso tavolo PD, Italia dei Valori, SEL, La Puglia per Vendola, Comunisti Italiani e la stessa Amo Martina, nel tentativo non facile di trovare la necessaria unità di intenti per giungere alla definizione di un programma comune da presentare all'elettorato martinese e le prossime amministrative di primavera. Le attenzioni dei partner si rivolgono in questi giorni al Partito Democratico, ancora tentato dalla possibile alleanza con l'Udc, rifiutata con forza dagli altri partiti del tavolo del centro-sinistra per la provenienza politica di chi oggi rappresenta l'Unione di Centro a Martina, ma fino al maggio scorso era seduto al tavolo del PDL in Consiglio Comunale. Un'alleanza dunque che per Amo Martina, IDV, SEL e Puglia per Vendola sarebbe innaturale e quindi inopportuna. Ormai con l'ufficializzazione della data delle prossime elezioni amministrative fissate dal Ministero degli Interni per il 6 maggio del 2012, direi che il percorso si è notevolmente accelerato, siamo in dirittura d'arrivo, probabilmente ci saranno delle primarie che ci auspichiamo vedranno tutto il settore politico che in questi anni ha fatto opposizione all'amministrazione Conserva e Palazzo Unito per fornire alla città un'alternativa possibile e necessaria, direi, a questo punto perché si mettano da parte in questo momento inutili ragioni di divisione per trovare invece i punti sui quali si concorda e quindi insomma offrire alla città la svolta che la città merita e che richiede. E tra le priorità della prossima amministrazione che andrà ad insediarsi a Palazzo Ducale ci sarà sicuramente quella della pianificazione urbanistica. Nelle ultime ore il commissario prefettizio Sandro Calvosa ha organizzato un forum informativo sulle opportunità concesse dalla legge regionale 14 del 2009, quella relativa alle misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale. Una proposta redatta a seguito dell'intesa tra Stato, regioni ed enti locali, finalizzata al rilancio dell'economia attraverso quella che è una delle attività trainanti, ovvero l'edilizia privata, consentendo molteplici interventi, l'ampliamento di edifici residenziali resistenti con aumento del 20% della volumetria complessiva, la demolizione e ricostruzione di edifici residenziali con un aumento del 35% della volumetria. Di fatto abbiamo con la scorsa esperienza amministrativa mancato questo obiettivo, il piano casa è stato recepito da molti comuni della regione Puglia ma non dal comune di Martina Franca il quale non si organizzò per tempo e lasciò sfuggire questa possibilità. Oggi fortunatamente la riapertura dei termini consente di ragionare nuovamente su questa opportunità e quindi l'incontro credo che vada nella direzione auspicata da molti, cioè quella di una condivisione da parte della città, degli ordini, dei tecnici, degli operatori del settore sugli obiettivi di questa legge e quindi sulla possibilità data alle imprese e ai cittadini di ampliare entro limiti ragionevoli le proprie abitazioni. Cambiamo argomento e veniamo a parlare della giornata della memoria con una significativa cerimonia questa mattina in prefettura a Brindisi. La consegna delle medaglie d'onore conferite direttamente dal Presidente della Repubblica a degli ex deportati nei campi di concentramento in contemporanea. Ovviamente anche al Quirinale a Roma si svolgeva un'analoga manifestazione. Vediamo il servizio di Brindisi. Quattro le medaglie d'onore consegnate in prefettura a Brindisi nell'ambito delle celebrazioni della giornata della memoria presenti alla cerimonia anche gli alunni del DITIS Giorgi, del Liceo Scientifico Fermi e del Liceo Linguistico Palumbo di Brindisi. L'iniziativa che si è svolta in concomitanza con un'analoga cerimonia presso il Quirinale voleva rappresentare l'occasione per una rinnovata riflessione collettiva condivisa con le nuove generazioni sulle tragedie che si sono consumate nei campi di sterminio nazisti nell'ultimo conflitto mondiale. Non sono sterili commemorazioni, sono testimonianze come quelle che abbiamo sentito in questa mattinata da parte di persone che hanno vissuto quel dramma, sono passate attraverso i campi di concentramento nazisti e quindi veramente possono di prima mano raccontare quello che è successo. Abbiamo avuto il piacere e l'occasione di ascoltare brani letti dai giovani studenti dei vari complessi scolastici di Brindisi. Abbiamo ascoltato canzoni meravigliose come quella Auschwitz, anche essa cantata da un giovane della scuola di Brindisi, ma non sono appunto commemorazioni, sono testimonianze come dicevo prima perché quello che è avvenuto e che qualcuno ancora si ostina a negare, non so come e in base a che cosa ebbene, queste testimonianze ci tengano sempre stretti e riscaldino il cuore perché quegli eventi non si verifichino mai. Un momento dunque di riflessione collettiva soprattutto con i giovani? Certo, noi abbiamo vissuto oltre 60 anni di pace in Europa, siamo una generazione, la mia, una generazione fortunata, non ha conosciuto quegli orrori. Ma questo non significa abbassare la guardia perché questi fatti non avvengano più. La pianificazione dell'olocausto, pianificazione che come ho detto stamattina è stata fatta come se si progettasse un ponte o un'autostrada, veramente gelano il cuore perché l'odio e la morte sono sempre state in mezzo a noi, in tutte le epoche, ma mai come in quel caso, in quell'olocausto è stato tutto così pianificato. Tremitalia non rispetta gli accordi per la consegna di 14 nuovi treni. La Regione Puglia procederà al definanziamento. L'assessore alle infrastrutture e mobilità, Guglielmo Minervini, non intende più aspettare. Nel 2016, dice Minervini, abbiamo sottoscritto con Tremitalia un accordo di programma. Era finalizzato all'acquisto di 14 nuovi treni, composti complessivamente da 55 vetture a doppio piano e 14 semipilota da destinare al servizio regionale. Il costo complessivo, 80 milioni di euro, di cui 20 milioni e mezzo a carico della Regione. Tremitalia ha acquistato sinora solo 4 treni, ovvero 4 semipilota e 12 carrozze, utilizzando 4 milioni e mezzo circa di euro del contributo regionale. Disimpegneremo i restanti 16 milioni. È il caso di precisare che nell'accordo modificato nell'ottobre 2007 si legge il contributo a validità di 30 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. Pertanto le ordinazioni di materiale rotabile saranno effettuate al massimo entro il 20 agosto 2008, fermo restando i termini della consegna. Questo non è avvenuto, dice Minervini. Tremitalia ha dirottato altrove i suoi investimenti. Evidentemente non è convinta che solo treni nuovi possano far recepire un servizio di qualità. Noi al contrario intendiamo offrire ai pendolari pugliesi migliori servizi e non ci arrendiamo all'idea che il trasporto ferroviario debba essere scadente. È per questa ragione che la Puglia negli ultimi anni è stata la quarta regione in Italia per investimenti sull'ammodernamento della flotta dei treni. Tremitalia dunque non può operare al ribasso, lasciando cadere nell'inerzia l'impegno di concorrere all'acquisizione di nuovi treni. Adesso con i 16 milioni, dice ancora Minervini, provvederemo ad acquistare direttamente i treni e ad immetterli nel nostro servizio di trasporto regionale. Con una delibera siglata proprio oggi dall'Aggiunta del Comune di Carovigno è stata approvata la convenzione che il 20 gennaio scorso il Sindaco Zizza firmò negli uffici regionali per le risorse aggiuntive dei fondi europei che serviranno ai lavori di riqualificazione della Marina di Specchiolla. La somma ammonta a 180 mila euro e sarà utilizzata per completare il sistema di illuminazione della complanare al tratto che interessa la Marina di Specchiolla sino all'area di Lido Sabbia d'Oro, la sistemazione di tutta l'area verde del lungomare, la sistemazione dei pali Enel e Telecom sul lungomare stesso. Il tutto va ad intersecarsi con i nuovi lavori in fase di gara d'appalto per l'ampiamento della strada di Morgicchio dove sono previste delle piste ciclabili e dei muretti a secco per dare una visione di collegamento tra la Marina di Specchiolla e la località di Pantanagianni. Il presidente della provincia di Brindisi, Massimo Ferrarese, ha inviato una lettera al presidente della regione Puglia, all'amministratore unico dell'acquedotto pugliese e al presidente del lato Puglia per chiedere la convocazione di una riunione urgente, finalizzata ad individuare una soluzione tecnica che consenta un'efficace gestione dell'impianto di affinamento delle acque reflue realizzato a Mesagne. L'impianto è stato completato nel 2002 ed ha richiesto l'impiego di circa 14 milioni di euro. Da quel momento non è mai entrato in funzione a causa delle difficoltà riferite alla gestione della struttura. Le numerose riunioni effettuate con acquedotto pugliese, regione Puglia, Autopuglia, non hanno sortito alcun effetto, quindi la provincia continua a farsi carico delle spese di manutenzione e di guardiania. E non è tutto. L'ente locale Brindisino ha realizzato anche una rete irrigua di distribuzione delle acque affinate, così come ha chiesto un ulteriore finanziamento di un milione e mezzo di euro per adeguamenti dell'impianto e per collegarlo ai depuratori di Ceglie Messapica, Franca, Villa, Fontana, Latiano e Mesagne. E cambiamo ora argomento, un delicato rapporto tra minori ed internet analizzato attraverso chi quotidianamente è chiamato al controllo e alla sicurezza del web. Parliamo della polizia postale. L'argomento è stato oggetto di un incontro dibattito organizzato dalla parrocchia dei Santi Medici di Ostuni nella serata di ieri proprio presso il salone parrocchiale. Vediamo. Internet è sicuramente uno degli strumenti democratici più straordinari che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni però è anche uno strumento pericoloso. Da che cosa è nata l'esigenza, Don Paolo, di organizzare questo incontro? Immagino anche esperienza di vita vissuta. Internet rimane un mezzo e come tutti i mezzi è l'uso che lo fa positivo e lo fa negativo. Quindi vogliamo proprio richiamare l'attenzione dei genitori attraverso l'informazione. Informare loro adulti ma per far sentire soprattutto i figli minori più sicuri. Oggi si lascia troppo i figli da soli, ecco, dinanzi a internet. Io credo molto nei ragazzi, nei bambini che hanno una grande capacità di valutare le cose però vanno guidati ed è proprio la guida che manca. È la presenza che tante volte sollecita quella che è la direzione che va presa. Questo è il pensiero che ci ha portati a vivere questo incontro. Che ci sia una continuazione, cercheremo di sollecitare quanto più possibile le famiglie perché non vada perso nessuna opportunità. Non è strano che la Chiesa oggi si interessi di internet. Il Vescovo, il Papa, nell'ultimo messaggio che ha scritto due giorni fa per la prossima giornata delle comunicazioni, parla anche di internet, parla del silenzio, parla della parola. E allora dobbiamo continuare, cioè la poca presenza non deve portarci a scoraggiarci, no? Perché il genitore oggi si scoraggia troppo facilmente, i figli non mi ascoltano più, sento sempre dire. E allora più che insistere si lascia perdere e si perde il ruolo educativo. Siamo al servizio di chiusura del giornale, parliamo di un'iniziativa dell'Associazione Umbracchie Umbracchie, che ieri sera, Umbracchie di Fasano, che ieri sera nel centro studi Valerio Gentile ha tenuto un incontro dibattito dedicato ad una problematica squisitamente fasanese, l'illuminazione e il potenziamento dell'impianto di illuminazione del centro storico di Fasano. Maria Angela Boggia ha realizzato il servizio che vi proponiamo da parte mia. Grazie per la cortese attenzione. 14 nuovi lampioni da installare nelle zone non illuminate del centro storico fasanese e la sostituzione di quelli già esistenti per un totale di 41 lampioni da predisporre. È l'analisi effettuata dall'Associazione Umbracchie, presentata ai tecnici comunali e discussa ieri sera nella sede del centro studi Valerio Gentile in Largo Chiesamatrice. Un incontro pubblico all'indomani dell'attivazione di un progetto pilota che la stessa amministrazione ha sostenuto attraverso il finanziamento di lampioni prova, collocati in alcune zone per il miglioramento e potenziamento della pubblica illuminazione del centro antico e per procedere alla scelta, in base alle preferenze dei residenti, del modello più indicato. Le peculiarità sono state illustrate dal responsabile del settore pubblica illuminazione, il geometra Nicola Mirabile. Abbiamo installato due tipi di lampere diverse. Una, diciamo, un po' più tradizionale, di fatto il LED appare tutto e quindi dà un effetto moderno. Mentre l'altro tipo di lampade, il LED non è evidente. Una nuova lampada è messa sul mercato da pochissimo tempo. Noi siamo riusciti ad averla in maniera sperimentale, stiamo facendo la prova. In quel caso il LED non si vede neanche. Per cui sembra, a mio parere, una luce più reale, più attendibile per il centro storico. Comunque, insomma, noi lo stiamo facendo vedere ai cittadini. I cittadini si possono esprimere in merito e ci possono dare dei consigli, quale delle due soluzioni adottare. Insomma, l'obiettivo è quello di dialogare con l'amministrazione comunale ed in particolare con la struttura tecnica dell'ufficio labori pubblici, per consentire di raggiungere soluzioni che tengano conto delle esigenze di vivibilità dei residenti e commercianti presenti nella zona e soprattutto della fondamentale necessità di realizzare un sistema illuminotecnico capace di esaltare e dare nuova luce al centro antico. Come residenti l'aspetto che ci interessa di più attualmente è quello di illuminare alcuni angoli che sono completamente bui. L'altra cosa che sarebbe importante curare è quello di poter vedere il nostro centro antico illuminato con quelle che si vedono spesso in giro nei centri antichi di altre città, fatta un'illuminazione tecnica che risalta le strutture, i palazzi, alcuni angoli che sono degli scorci, secondo me, molto carini e caratteristici del nostro centro antico. Entro i prossimi dieci giorni sarà presentato al sindaco Lello di Bari il preventivo utile a stabilire se ci sono le condizioni da parte dell'amministrazione di sostituire tutti i lampioni presenti con quelli nuovi, integrando anche le zone non illuminate o procedere per il momento alla sola installazione di quelli mancanti. E' inoltre emerso che in un secondo momento si potrebbero fare le dovute valutazioni sul tipo di illuminazione per gli angoli più caratteristici e di importanza architettonica, come per l'arco del Bali, per le numerose arcate presenti e per lo storico torrione di via San Francesco. Infine la proposta presentata dall'Umbracchi è anche quella di eliminare in via Fogazzaro le lampade esistenti e sostituirle con i lampioni a muro per dare maggiore risalto e bellezza ad una via che fa parte, senza ombra di dubbio, del centro antico della città. Già da tempo diede in carico di predisporre un apposito capitolo per 90.000 euro nel prossimo bilancio, prossimo bilancio che intenzione di questa amministrazione è approvare a marzo. Quindi appena approvato il bilancio saremo nelle condizioni di poter procedere con il cambio della lanterna qui all'interno del centro storico. Grazie per la visione!